Oggi si gioca al... che roba è? Dai, il Festival della Bisa. Vediamo come va. Vediamo Lucia. Quasi. Questi praticamente stanno facendo la gara della birra le 10 di mattina. E dagli Stati Uniti è il Mr. Jeff. Ho preferito non farlo. Ah, Raul! Perché non è cosa di bere la birra fredda sotto il sole a quest'ora. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10! Prima, 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 prima! Cosa è? La ultima di chiara con il cuore con il cuore è fuori. Prima, ragazzi. Posizionale... Luca. Tu sei qua. Tu sei qua. Raul. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Oggi si ripete la gara di tuffi, le panciate in realtà Andiamo a vedere che succede 3, 2, 1, go! 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 4, 2, 1, go! 3, 2, go! 4, 2, 1, go! 5, 1, go! 5, 1, go! 4, 2, 1, go! 5, 1, go! è Vito John The King of the Belly Club Mr. John This is your prize Original MSC Divina Swarovski Model, it's 100% Plastic and it will sink The King of the Belly Club We get it together for John So, how are you doing? Listen Do you speak English? No So, to say you are Bruno Mars I thought Elton John No, Elton Ah, Bruno Mars But dressed up as Elton Looks better, no? It's more macho Are you ready? So pronto Ladies and gentlemen Together It's Carlo And Bruno Mars Or if you think Elton should win And Maximus Bell And then we have Bruno Mars Freddie Mercury Lady Gaga And Madonna So, Lady Gaga To the front please And Elvis Ladies and gentlemen One more time for the last time If you think Lady Gaga should win Make some noise Make some noise Woooo Or if you think Elton should win Make some noise Or if you think Elton should win Make some noise Ladies and gentlemen Our new Lip Sync Champion Is Elton Is Elton Hey Gaga Muchas gracias Thank you very much Madonna Thank you Freddie Thank you Bruno Thank you Michael Thank you Thank you Thank you Grazie 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 Stasera ho dovuto documentare la cena perché un gruppo di forumisti anzi in realtà un gruppo di una pagina di Facebook di croceristi non credeva potessimo mangiare tanto e non credeva ci facessero mangiare tanto invece abbiamo mangiato la volta scorsa forse di più comunque abbiamo mangiato tanto anche stasera io nonostante guardate qua sono rossissimo nonostante questo è il quindicesimo giorno di sole perché tra New York e qui sono più di 15 giorni che sto al sole oggi ammettendo due volte soltanto la protezione non c'è stata tutta la giornata sole mi sono completamente ustionato per fortuna è una cosa abbastanza leggera altrimenti però non vi nascondo che ho un mal di testa mi sento stanchissimo nonostante non abbia fatto quasi nulla quindi raga io vi saluto ci vediamo domani condividete seguitemi su Facebook e su Instagram ciao a tutti a domani Grazie.